Serande abbassate nei sei comuni della Castellana il lutto regionale proclamato dal presidente Zaia nel giorno dei funerali di Vanessa Ballan, la 26 anni uccisa barbaramente da Buiar Fandai, 41enne con il quale aveva avuto una relazione. Il Veneto intero si appresta a dare l'ultimo saluto alla giovane mamma coltellata a morte da chi non aveva accettato la fine della storia. Fiocchi rossi appesi per gridare ancora una volta basta questa violenza. Zaia ha fatto sapere nelle ultime ore di aver anticipato a domani l'inaugurazione dell'ultimo tratto della pedemontana prevista inizialmente per venerdì mattina. Questo per non coincidere con il giorno dell'ultimo saluto a Vanessa. A Castelfranco dove si svolgerà il funerale la comunità tonita si sta preparando. Lo stiamo facendo cercando di essere rispettosi della volontà della famiglia e cioè di una partecipazione silenziosa e lo faremo comunque come amministrazioni partecipando alle esequie con i gonfaloni di stati a lutto. Castelfranco Veneto anticiperà la chiusura del mercato in modo tale di dare la possibilità a coloro che parteciperanno ai funerali di trovare la piazza libera. Ho chiesto che sia decretato il lutto regionale ha spiegato il presidente Zaia come messaggio corale delle istituzioni contro ogni violenza di genere. I casi di Vanessa e di Giulia sono e debbono essere uno spartiacque suscitando una risposta collettiva contro crimini che non possono restare relegati alle cronache. Tutto questo anche nei confronti di tante donne e tante giovani che possono trovare il coraggio di denunciare se la società tutta si dimostra unita nel condannare i violenti e nel contempo nel tendere la mano a chi chiede aiuto. Deve essere chiaro a tutti che la battaglia contro la violenza maschile e il femminicidio è innanzitutto culturale, spiega il senatore Andrea Martella, segretario regionale del Partito Democratico in Veneto, e deve proseguire senza abbassare la guardia, imparando dagli errori e aumentando la capacità di tutelare le donne che denunciano, alle quali per prima cosa bisogna dare accoglienza, ascolto e credito. Sul fronte delle indagini si continua a ricostruire tassello dopo tassello le settimane e i giorni prima del delitto di Vanessa. Fandai intanto rimane in carcere a Santa Bona, per ora ha scelto di non parlare.